I Rimini torna a fare la voce grossa, lo fa nella settimana dove dopo il passo falso di Budio, con relativa leadership solitaria persa dato l'arrivo del lentigione, sono arrivate alcune fondate critiche che hanno messo in discussione il potere della squadra di Gaburro. La migliore occasione per dimostrare la propria forza capita Neri contro una delle pretendenti alla vittoria del girone, con l'Agnanese che rispetto alla precedente stagione perde smalto e non solo contro i biancorossi. Un anno prima in campionato i neroverdi ottenono un successo a Neri, un pareggio e una vittoria playoff in casa propria, ma Neri oggi è tutta altra partita. Ammita la gara Fabrizio Arcidia Corro del Cireale, l'inizio è però di marca Toscana con il tiro di Brega che si conclude a lato. Il match si sbrocca al terzo minuto, dalla bandierina Artioli pesca del dotto che di testa beffa Marietta portando i Toscani in vantaggio. La replica dei Rimini è immediata, il tiro di Mencali viene deviato in corner dall'attento Gagliardi. Dalla bandierina Gambianelli a cercare Andres, la cui conclusione è una comoda presa per l'estremo ospite. Dopo la mezz'ora il neolaureato Tonelli, piuttosto auguri, termina a terra, successivamente ballo lo stesso per Andres. In area di rigore l'arbitro fa segno in tutti e due casi di proseguire. A sbloccare la situazione ci prova Tanasa, ma il tiro indirizzato verso lo specchio della porta viene murato in corner. A 45esimo traversone dall'altra parte pericoloso di Quasi, non raccolto da nessuno dei compagni di squadra. Ad inizio di presa il Rimini perviene a pareggio. Cross di Tonelli, colpo di testa di Mencali e via i festeggiamenti sotto la curva. 1-1 ristabilita la parità in campo, possiamo dire pareggio meritato per i Biancorossi. Successivamente Gagliardi neutralizza la conclusione ravvicinata di Piscitella e il Rimini gioca soleali dell'entusiasmo. Al diciottesimo infatti i Biancorossi la ribaltano a combinazione Tonelli-Piscitella. Traversone per il colpo di testa di Mencali per il sorpasso Biancorosse con la personale doppietta per l'attaccante che sa tanto di soddisfazione. Il centro avanti arriva alla personale tripetta addirittura poco dopo quando risulta sveglio e lesto per i tapin vincente dopo che i nero-verdi avevano ribattuto proprio sul piede caldo di quest'ultimo un tiro di Tonelli. Dall'altra parte l'Agnanese prova a venire fuori con il tiro di Gemmi che viene bloccato senza patemi da Marietta. A 5 dalla fine il Rimini cala il poker con il terzo cento di stagione di Tomassini che sotto misura di testa infila l'estremo ospite per il più facile dei gol. Nell'extra time c'è spazio anche per il tiro a giro di Piscitella sospinto in rete questa volta da una deviazione sfortunata dalla retroguardia nero-verde che permette a Rimini di rifilare una manita a una delle corazzate del girone e soprattutto di battere un 5 tra squadra, allenatore, società e tifoseria che sa di forza per continuare a culare il sogno che per scaramanzia non osiamo pronunciare in quel di novembre. Nel frattempo sventola la bandiera bianco-rossa.